Ciao, bella ragazzi, siamo qua in zona Battifollo, oggi pomeriggio mi sono divertito e ho rivisto una persona che a me non mi piaceva, una persona che si chiama C. Ne. Vedremo gli eventi di domani saremo qua a Battifollo, c'è la Daniela, Sponciarelli, saluto un po' tutti, Damiano e gli altri. Poi, ah, questa propria settimana saremo a Strasana con i miei amici. Ho fatto pace con il mio amico Albert, Alberto Rocco, fatto pace. Seguiteci su Instagram, Whatsapp, Facebook e cose varie. Ora Albert lo lascio in pace, per un po' lo lascio in pace, però è sempre amici. Ciao, bello. Ciao, belli. Ciao, belli.